Il 16 ottobre 1984, verso le 17, il piccolo Gregory Villemaine scompare misteriosamente mentre sta giocando nel giardino davanti casa sua. Sua madre, dopo aver finito di stirare, va a cercarlo, ma non riesce a trovarlo. Ne denuncia la scomparsa un'ora dopo. Alle 21 di quella stessa sera viene fatta una scoperta scioccante. Ad oggi sono passati esattamente 40 anni da questo enigmatico caso e, tra segreti di famiglia ed errori giudiziari, ancora nessuno conosce la verità. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E non so se avete notato, in realtà già dal video precedente, lì nel mobile ho fatto alcune aggiunte, tipo le ragnatele, il fantasmino. Le ho fatte dato che si sta avvicinando Halloween e in generale siamo già nel vivo della spooky season, che è il mio periodo dell'anno preferito. E anche per questo, a partire da oggi, ho deciso di fare dei video più strani, diciamo, del solito, più enigmatici, più inquietanti. Video che secondo me si incastrano molto bene con il periodo in cui li vedrete. E oltre a questo, per le ultime due settimane di ottobre, anziché un video a settimana, ne usciranno due, a partire dal prossimo martedì. E in tutti questi video, quello di oggi compreso, tratteremo delle vicende davvero sinistre, molto più strane e macabre del solito. Detto questo, scusate per l'introduzione un po' più lunga del solito, direi che ora possiamo cominciare. Oggi voglio raccontarvi la storia del piccolo Gregory Villemaine, una delle vicende più discusse e più famose in Francia, che ancora oggi rimane colma di mistero. È forse uno dei casi più complessi che abbia mai scritto, perché in primis è appunto il risolto, ma poi anche perché questo mese saranno passati esattamente 40 anni dai fatti. In tutti questi anni ovviamente ci sono stati diversi sviluppi, diversi sospettati, tanti colpevoli o presunti tali. Parleremo di gelosie, violenze e persino di un altro omicidio collegato al caso. Ci sarà davvero tanto di cui parlare, quindi mettetevi comodi. Questo è il triste e contorto caso di Gregory Villemaine. Prima di parlare di lui, però, dobbiamo necessariamente parlare dei suoi genitori. Il padre, Jean-Marie Villemaine, nasce il 30 settembre 1958 a Domonsey, un piccolo comune nel dipartimento dei Vosgi. È il terzo figlio di Monique Jacob e Albert Villemaine. E i suoi fratelli si chiamano Jacques, detto Jackie, e Michel. A 16 anni, Jean-Marie decide di lasciare il liceo per iniziare a lavorare come operaio nella fabbrica Autocoussin, che produce sedili e componenti per automobili. A quei tempi non era per niente inusuale che i ragazzi giovani lasciassero gli studi e cominciassero a lavorare nelle fabbriche. Siamo negli anni 60 e 70 e in Francia, come anche negli altri paesi europei, la classe operaia stava crescendo esponenzialmente. A dire il vero, tutti i membri della famiglia Villemaine diventeranno operai perché i tre figli, tra cui appunto Jean-Marie, decidono di seguire le stesse orme del padre Albert. Jean-Marie, ad ogni modo, conosce una ragazza durante una passeggiata nel 1976, quando ha 18 anni. Questa ragazza si chiama Christine e sarebbe diventata la madre del piccolo Gregory. Christine era due anni più piccola di Jean-Marie. Era nata infatti il 13 luglio 1960 a Petitmont, un villaggio a nord-est della Francia. I due si innamorano subito, ma la relazione non sembra diventare seria dall'inizio perché lui purtroppo si vede costretto a partire per svolgere il servizio militare. A suo ritorno, tuttavia, riallaccia subito i rapporti con lei e i due decidono di sposarsi nel 1979. Un anno dopo, solo un anno dopo, il 24 agosto 1980, danno alla luce il loro primo figlio, proprio il piccolo Gregory Villemaine. Jean-Marie e Christine sono al settimo cielo. Gregory cresce in un ambiente ricco di amore e dalle foto che si trovano sul web possiamo notare che si trattava di un bambino bellissimo, sempre con il sorriso e con questi bei capelli lunghi. Nel febbraio del 1981, il datore di lavoro di Jean-Marie lo nomina caporeparto come modo per congratularsi con lui per l'ottimo lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Questo ovviamente significa uno stipendio più alto e quindi la possibilità di avere una casa più grande. Pochi mesi dopo, infatti, la famiglia si trasferisce in una bellissima e grande casa costruita proprio da loro e per loro a L'Epanche-sur-Vologne, un minuscolo paesino di circa 1000 abitanti in cui non succede assolutamente mai nulla e in cui tutti ovviamente si conoscono. Il fatto di essere stato nominato caporeparto e di conseguenza aver acquistato una grande casa con un bel giardino e in un bel quartiere suscita però in fretta moltissime gelosie intorno a Jean-Marie. I suoi stessi fratelli, la sua stessa famiglia, si rivela invidiosa della sua posizione lavorativa e tutti nella fabbrica, colleghi compresi, cominciano a chiamarlo le chef, ovvero il capo. Ma il successo lavorativo non è l'unico aspetto che suscita le gelosie delle persone intorno a lui. Anche il fatto di avere una vita matrimoniale perfetta, con una moglie bellissima, un figlio sano e una casa grandissima comincia a creare parecchia invidia. Ed è proprio in quel periodo che, per la famiglia Villemaine, comincia un vero e proprio incubo. A partire da quell'anno, quindi dal 1981, i coniugi cominciano a ricevere delle inquietanti telefonate e anche delle lettere minacciose da parte di qualcuno soprannominato Le Corbo, il Corvo. E per i tre anni successivi, i coniugi riceveranno oltre mille telefonate, sempre da parte di questo misterioso Corvo. Allo? Allo? Tu sei? Eh oui. On va dire que c'est toujours le même sale, eh? A parto là, tu sais, tu me diras que tu maintenant? Wow! Qu'est-ce que tu as dit, tu sais, tu en as dit, un artiste? Hein? Oui, un artiste. Sì, ma quando mi vieni a rinforzare tu, è tu che sarai avvenuto la prima cosa che mi mette in mano. E' un'attività che mi ricorda, tu e io sono tornato per tu. Sì, tu e io sono due giorni di mangiare, quindi io credo che sia un'attività che ti mette in mano. Tutto a inizio nel maggio dell'81 a casa dei genitori di Jean-Marie, che all'epoca erano gli unici in famiglia ad avere un telefono fisso. Durante le prime telefonate, dall'altra parte della cornetta, c'era sempre la voce di una donna che cantava su della musica. Col passare del tempo, invece, la voce della donna ha cominciato a sostituirsi alla voce rauca di un uomo. Un uomo che minacciava la famiglia, o a volte rimaneva semplicemente in silenzio, limitandosi a fare grossi sospiri. Direi decisamente inquietante. Le minacce col tempo non fanno che aumentare e gli stessi genitori di Jean-Marie, Albert e Monique, continuano a ricevere costantemente telefonate da parte del corvo, praticamente ogni giorno. Fino al 1983 i coniugi Villemin vivono nel terrore, continuando a ricevere decine e decine di chiamate, praticamente ogni giorno. Nel 1983 però il corvo, durante una telefonata, minaccia addirittura di uccidere il figlio di Jean-Marie, il piccolo Gregory. Ed è a quel punto che l'uomo perde la testa e minaccia il corvo per la prima volta, e direi anche comprensibilmente. I coniugi Villemin decidono di non lasciar più correre a quel punto e denunciano finalmente tutti i fatti alla polizia. Nel maggio di quell'anno, quindi dell'83, le chiamate a casa Villemin cessano definitivamente quando la loro linea telefonica comincia ad essere intercettata dalle autorità. È a quel punto che i coniugi trovano la loro prima lettera di minacce, lasciata sul davanzare di una delle finestre di casa. Vi farò la pelle, famiglia Villemin. Ecco, voglio puntualizzare una cosa riguardo le lettere, ovvero il fatto che il corvo facesse spesso errori di ortografia e spelling, tra cui uno anche abbastanza importante, ovvero il cognome Villemin, scritto sbagliato. Chiunque fosse il corvo, infatti, aveva scritto Villemin, che in francese si pronuncerebbe comunque Villemin. Peccato però che il modo corretto per scriverlo è Villemin, con solo la I. Questo potrebbe significare due cose. O il corvo ha un basso livello di istruzione, oppure non conosce abbastanza la famiglia Villemin da sapere effettivamente come si scrive il cognome, perché nel parlato appunto è uguale. O almeno queste sono le teorie ipotizzate dalla polizia a quel tempo. Secondo me invece sapeva benissimo come si scriveva il cognome e aveva anche un basso livello di istruzione, ma a questo ci arriveremo dopo. Le lettere comunque da quel momento non cessano di arrivare e anche gli stessi genitori di Jean-Marie cominciano a ricevere parecchie lettere di minacce dal corvo. In un primo momento i coniugi pensano che si tratti di un vicino, di un vicino magari invidioso della loro vita apparentemente perfetta, ma poi i sospetti si spostano sulla famiglia e i coniugi cominciano a pensare che possa trattarsi di un parente molto stretto. Quello che era certo è che il corvo era ossessionato da Jean-Marie e dai suoi genitori Albert e Monique, che nominava sempre le sue lettere. Nel corso delle telefonate, ma anche nelle lettere, il corvo chiama Jean-Marie le chef, che se vi ricordate è il soprannome che gli era stato dato a lavoro, in fabbrica, solo una volta che era stato promosso. Questo potrebbe restringere il campo e far quindi dedurre che si tratti di una persona vicina a Jean-Marie, magari un suo collega o comunque qualcuno della famiglia che conosce la situazione e conosce il modo in cui lo chiamano i colleghi. Ma da qui le domande non faranno altro che aumentare. Il corvo in realtà sembra conoscere molto bene i villemen e i loro segreti, in particolare i segreti dei genitori di Jean-Marie. Monique, sua mamma, è una donna molto potente, possiamo dire, e giravano voci riguardo la sua famiglia un po' particolare, diciamo. Monique viene da una numerosissima famiglia di contadini che ha poi trovato fortuna nell'industria, e infatti la donna conta bene 12 fratelli e sorelle. Da questo momento i nomi che dirò sono tantissimi ragazzi, quindi magari vi metterò l'albero genealogico così vi farete un'idea. Pare che l'incesto nella famiglia di Monique fosse una pratica totalmente normale e da alcune fonti è riportato che una delle sorelle della donna abbia avuto un rapporto incestuoso con il padre e da quel rapporto si è poi nato un bambino. Ma gli oscuri segreti non finiscono qui perché anche il padre di Jean-Marie, Albert, Albert Villemin, viene da una famiglia che custodisce parecchi scheletri nell'armadio, e il corvo li conosceva tutti. Pare che il padre di Albert, quindi il nonno di Jean-Marie, un uomo di nome Gaston, si sia impiccato all'età di 36 anni dopo aver picchiato a morte il suo altro figlio, il fratellino di Albert, un bambino di nome Etienne, e l'avrebbe ucciso insieme alla moglie Jean-Marie. Etienne aveva solo 4 anni. Le ultime lettere del corvo sono tutte indirizzate ai genitori di Jean-Marie e le minacce si fanno sempre più intense. Arriviamo così al 16 ottobre del 1984. È un giorno come tanti. Christine ha appena staccato da lavoro e va a recuperare il piccolo Gregory, di 4 anni, che era dalla babysitter. I due tornano a casa da soli perché Jean-Marie era ancora a lavoro. Christine in quel momento ha parecchie faccende domestiche da sbrigare e decide quindi di lasciare Gregory a giocare da solo fuori in giardino mentre lei finiva di stirare. Tutto in quel momento sembra tranquillo. La donna accende la radio e ascolta della musica mentre finisce le faccende di casa. Alle 17.20 Christine decide di far rientrare Gregory, ma quando lo chiama non riceve nessuna risposta. La mamma quindi esce fuori in giardino, ma suo figlio non si trovava più lì. A terra c'erano solo i suoi giochi, sotterrati dalla ghiaia. Christine va subito nel panico e si mette a cercarlo ovunque. Lo chiama a squarciagola, ma il piccolo sembrava sparito nel nulla. A quel punto prende la macchina e comincia a cercarlo in giro per il villaggio, senza nessun risultato. Alle 17.30 Michel Villemin, uno dei fratelli di Jean-Marie, riceve una telefonata dal Corvo. Una telefonata che gli dice di aver rapito il piccolo Gregory e di averlo gettato nella Vologne, il fiume poco distante dal villaggio. Christine a quel punto informa suo marito ed entrambi denunciano la scomparsa alla polizia, che conosceva già bene i coniugi per via delle precedenti denunce fatte per le minacce del Corvo e così via. Le autorità si mettono subito alla ricerca del piccolo Gregory e purtroppo lo trovano senza vita solo tre ore dopo. Alle 21 di quello stesso giorno, il corpo di Gregory viene trovato mani e piedi legati in una buca accanto al fiume Vologno. La mattina successiva, i coniugi Villemin ricevono una lettera da parte del Corvo. Spero che morirai di dolore, chef. Non sono i soldi che ti riporteranno indietro tuo figlio. Ecco la mia vendetta, povero stronzo. Se siete stati attenti, avrete notato che la scrittura delle lettere è cambiata. Le prime lettere erano scritte in stampatello maiuscolo, a caratteri molto grandi e squadrati, mentre questa è scritta in corsivo e la mano che l'ha scritta sembra un po' tremolante. Potrebbe significare che il Corvo in realtà siano due persone? O forse più di due persone? Si tratta forse di due persone anziane? Questo si ricollegherebbe anche alle misteriose telefonate, quando all'inizio si sentiva la voce di una donna e successivamente quella di un uomo. Comunque mentre fate le vostre considerazioni andiamo avanti con la storia. Poi alla fine vi dico anche le mie conclusioni. E preparatevi ragazzi perché da ora le indagini si faranno parecchio intricate ed enigmatiche. Dopo la scoperta del corpo lo shock è immenso. I coniugi Villemen crollano dal dolore e la voce comincia a spargersi nel villaggio nel giro di alcuni minuti. Alcuni giornalisti si recano sul posto e dopo pochissime ore la notizia del brutale omicidio del piccolo Gregory è sulla bocca dell'intera nazione. E rivela che il corpo non presentava tracce evidenti di violenza. Non sono stati notati ematomi per esempio, ma è stato trovato un livido di un centimetro di diametro sulla testa. I polmoni poi contenevano una piccola quantità di acqua, ma non è stato possibile determinare se si trattasse dell'acqua del fiume. Una cosa interessante notata durante l'autopsia è l'assenza di tracce di adrenalina nel sangue, che sarebbero state sintomo di paura. Questo potrebbe voler dire che Gregory, prima della sua morte, si trovava con qualcuno di cui si fidava, qualcuno che conosceva bene. La conclusione dell'autopsia comunque è che il bimbo è morto per asfissia, ma non è stato possibile determinare se fosse deceduto prima o dopo essere stato gettato nel fiume. Subito dopo l'omicidio inizia una vera e propria caccia all'uomo. I primi sospetti ricadono subito sulla famiglia Villemin, che era già sotto i riflettori a seguito delle minacce. Le indagini porteranno alla luce tutte le tensioni familiari, in particolare quelle tra Jean-Marie e suo cugino Bernard Laroche, che sarà una persona molto importante per questo caso, quindi direi di spendere anche qualche parola su di lui. Bernard Laroche nasce il 23 marzo 1955 e perde sua mamma alla nascita, che muore mentre erodava alla luce. Viene cresciuto quindi dalla sua nonna materna, una donna di nome Adeline Jacob, che è anche la nonna materna di Jean-Marie. I due infatti sono cugini di primo grado. Dopo la scuola di meccanica generale, nel 1972 Bernard viene assunto presso la Finlanda Ansel, ma diciamo che fa fatica ad inserirsi e a salire di livello. Nel 1976 sposa Marie-Ange Bolle e nel settembre del 1980 i due danno alla luce il loro primo figlio, Sébastien Laroche, che nasce proprio dieci giorni dopo la nascita del piccolo Gregory. Sébastien però, a differenza di Gregory, nasce con una disabilità mentale e Bernard, complice penso alla poca istruzione e in generale la poca informazione che c'era sull'argomento in quegli anni, fa davvero molta fatica ad accettare e affrontare la disabilità del figlio. In quel periodo è anche frustrato per via del suo capo che proprio non vuole dargli una promozione. Tutte cose che invece suo cugino Jean-Marie aveva avuto. Bernard, insomma, è costretto dalle circostanze a condurre una vita sicuramente molto più umile rispetto a quella di suo cugino. Una vita anche più triste e difficile. Bernard è un uomo silenzioso, ma viene anche descritto come una persona dal carattere amichevole, discreto e riservato. Sua moglie Marie-Ange è una donna piuttosto severa e dà l'aspetto un po' trascurato. E i due in realtà non vivono un matrimonio particolarmente felice, anche a causa dei turni in fabbrica sfasati tra i due. Infatti Marie-Ange lavora di giorno e Bernard di notte. Visti da fuori, la loro vita sembra molto meno armoniosa e felice rispetto a quella di Jean-Marie e Christine, che in parallelo stavano vivendo uno dei loro periodi più belli. Il loro figlio era nato sanissimo e senza nessun problema, Jean-Marie aveva avuto la promozione e si erano anche appena trasferiti in una nuova casa più grande e più bella. Sicuramente tutto questo sarebbe stato motivo di invidia da parte di Bernard. E infatti l'uomo attira subito l'attenzione delle forze dell'ordine affidate al caso, che ritengono che Bernard sia da considerare come sospettato. In realtà però, viste le tensioni familiari piuttosto marcate, tutti i membri della famiglia e tutte le persone anche vicine a loro vengono messe in una sorta di lista dei sospettati. Diciamo vengono messe sotto i riflettori e nei giorni successivi infatti ben 140 persone tra familiari e amici vengono convocate alla centrale di polizia. Con l'aiuto di un esperto di calligrafia si procede con una perizia calligrafica per trovare delle similitudini con la scrittura del corvo. Questo test consiste nel ricopiare ancora e ancora tutte le lettere del corvo per trovare eventuali somiglianze. Anche Michel Villemin, uno dei fratelli di Jean-Marie, finisce sotto i riflettori, essendo stato lui ad aver ricevuto la chiamata da parte del corvo subito dopo il rapimento e l'uccisione di Gregory. Il 22 ottobre, quindi, sei giorni dopo l'omicidio, le forze dell'ordine ricevono una chiamata da parte di una giovane donna che voleva testimoniare in maniera anonima e condividere i suoi dubbi riguardo Jackie Villemin, l'altro fratello di Jean-Marie. Incuriositi da questa chiamata, gli agenti non tardano a rintracciarne la provenienza e scoprono subito che la donna da aver chiamato era Marie-Ange, la moglie di Bernard Laroche. Marie-Ange viene quindi convocata alla centrale e tenuta sotto custodia per essere interrogata, ovviamente. Convocano anche suo marito Bernard, al quale viene fatto eseguire il test calligrafico. Lo stesso giorno, il 22 ottobre, viene anche emanato l'identikit di un uomo che, secondo le indiscrezioni, si sarebbe aggirato intorno all'ufficio postale la sera del delitto e si presuppone che quell'uomo fosse proprio il corvo, intento a spedire il messaggio. Voici il portrè robot dell'assassin presumé di petit Gregory. Se vous rencontrezz cet homme, allez à la gendarmerie la plus proche. C'est un lâche, il a tué un enfant. La polizia nota subito la somiglianza tra l'identikit e Bernard Laroche, ma il ritratto non è l'unica cosa che fa sospettare di lui. Perché sembrerebbe anche che la sua scrittura sia molto simile a quella del corvo. Entrambi i coniugi, quindi, vengono tenuti in custodia per un po' di tempo, ma vengono poi rilasciati per insufficienza di prove. L'alibi fornito da Bernard, inoltre, includeva dei potenziali testimoni, persone che vengono quindi interrogate a loro volta, ma le loro testimonianze non sembrano coincidere con quelle dell'uomo. Bernard, infatti, aveva affermato che la sera del delitto, alle 17.20, era andato a trovare sua cognata, Muriel Bol, la sorella di Marie-Ange. Lei, all'epoca dei fatti, aveva 15 anni e, secondo le dichiarazioni dell'uomo, verso quell'ora, si trovava già in casa, lei, Muriel. Tuttavia, lei, nella sua dichiarazione, affermerà che il giorno del diritto è tornata a casa con il pulmino scolastico e che, al suo arrivo alle 17.20, Bernard si trovava già in casa. Insomma, nelle due dichiarazioni hanno invertito l'ordine di arrivo dei due all'abitazione. Muriel poi si ritrova a confrontarsi anche con le testimonianze di diversi compagni di classe che affermavano di non averla vista sullo scuolabus. quel 16 ottobre alle 17. Uno di loro ha anche affermato di averla vista, invece, salire su un'auto che, dalle descrizioni, corrispondeva alla Peugeot 305 di Bernard. Queste testimonianze sono supportate anche da un errore che ha fatto Muriel. Infatti, la ragazza ha descritto l'autista dell'autobus del 16 ottobre 1984 esponendo le stesse caratteristiche fisiche dell'autista abituale, quello che era abituata a vedere tutti i giorni. Peccato, però, che proprio il 16 ottobre, intorno alle 17, c'era un autista sostitutivo che era presente solo il martedì. A questo punto viene interrogato anche lui, l'autista, che dichiara con certezza di non aver visto Muriel Boll sullo scuolabus. E dopo che gli investigatori le fanno notare questi elementi contrastanti, Muriel cambia versione. E dice che in realtà Bernard era andato a prenderla a scuola e che con lui c'era anche suo figlio, Sébastien. Insieme sono poi andati fino ad una casa a Lepange, identificata come quella di Jean-Marie e Christine, davanti a cui Bernard si sarebbe fermato e sarebbe sceso. Lì avrebbe portato sul sedere posteriore un coetaneo di suo figlio, identificato come Gregory, e sarebbe ripartito per recarsi nel vicino villaggio di Dachelle, dove si sarebbe fermato. Lei afferma di averlo visto partire con Gregory, per poi tornare da solo poco dopo. Ecco, a seguito di queste dichiarazioni, la polizia ritiene di avere elementi sufficienti per richiedere al giudice Jean-Michel Lambert di convocare Muriel per una dichiarazione aggiuntiva. Così la mattina del 5 novembre, la ragazza conferma la sua versione, aggiungendo anche alcuni dettagli. Il giudice istruttore revoca quindi la sua custodia, senza però prendere la precauzione di isolarla dal suo ambiente familiare, e accusa di omicidio Bernard Laroch, che viene immediatamente arrestato sul posto di lavoro il 5 novembre 1984, intorno alle 13.45. Ma il dossier, tenete a mente, non conteneva ancora il rapporto dell'autopsia né le conclusioni degli esperti di grafia. Tuttavia l'arresto diventa immediatamente di dominio pubblico, e i media dedicano la loro prima pagina direttamente all'assassino Laroch, filmando addirittura il suo arresto. Il giorno successivo, il 6 novembre, succede qualcosa di particolare. La famiglia di Muriel convoca la stampa a casa sua, e la ragazza ritira tutte le sue dichiarazioni, cambiando completamente versione. Muriel dichiara che la polizia avrebbe fatto pressione su di lei, obbligandola a confessare che Bernard fosse andato a prendere la scuola il giorno del diritto. Afferma poi che suo cognato è innocente, e di essere caduta in una trappola, confermando di essere salita sul pulmino scolastico dopo la scuola, e di essere tornata a casa così. Gli investigatori, a loro volta, sospettano che la famiglia abbia fatto pressioni sulla ragazza, influenzando così la sua versione, e spronandola a fare un'altra dichiarazione per scagionare Bernard. Questo casino, insomma, rappresenta uno dei primi grossissimi errori dell'indagine. Cioè, quando si fanno errori del genere all'inizio delle indagini, poi si rovina tutto, fidatevi. Nei giorni successivi a queste dichiarazioni, gli avvocati di Muriel infatti sporgono denuncia contro gli investigatori per falsificazione e alterazione di testimoni. Ah, piccolissima parentesi, in tutto questo tempo è stata la gendarmeria ad indagare e occuparsi del caso, che sarebbe una forza armata o un corpo militare, che però svolge le funzioni della polizia. In Francia opera prevalentemente in piccoli paesi e località rurali. Quindi ecco, magari d'ora in poi la chiamerò gendarmeria, anziché polizia, perché è più corretto. Ok, ora torniamo a noi. Nel 1989, questa denuncia contro gli investigatori della gendarmeria viene definitivamente respinta dai tribunali, che ritengono prive di credibilità le accuse mosse dalla difesa di Muriel Boll. Il giudice, Jean-Michel Lambert, viene a sua volta intervistato e dichiara che si aspettava che Muriel cambiasse versione. E dichiara che si aspettava che Muriel cambiasse versione. Tuttavia, il fascicolo che incriminava Bernard era troppo ricco di dettagli e prove contro di lui, e per questo l'uomo sarebbe rimasto in prigione. Nei giorni successivi, però, la difesa di Bernard esamina di nuovo i fascicoli e trova degli errori giudiziari che portano presto ad una minore credibilità delle indagini svolte fino a quel momento. Il giudice, però, dal canto suo, continua a sostenere di avere le prove contro Bernard Laroch, come per esempio le conclusioni del primo studio grafologico, di grafia, come si chiama. Avevano rivelato, questi test, una discreta somiglianza tra la sua scrittura e quella del corvo. E poi un'altra cosa di cui non vi avevo parlato, in basso alla lettera dell'omicidio c'era la sigla L.B., che secondo il giudice sarebbe stata l'abbreviazione lampante, ovvia, di Laroch Pernard. Tuttavia, questa lettera nel corso del tempo è andata perduta in qualche modo. Sarebbe stata poi riutilizzata solo diversi anni dopo, quando è stata ritrovata una copia del verbale, dentro la quale erano presenti le foto di questa lettera. Oltre a ciò, la parte più importante del fascicolo era stata danneggiata durante la ricerca delle impronte, perché era stata avversata dalla polvere nera per individuare le impronte digitali, metodo che si utilizzava all'epoca. Però, per via di questo, le indagini future, diciamo, vengono compromesse. Specialmente il tentativo di cercare delle tracce di DNA in quelle impronte. Insomma, ragazzi, un casino dietro l'altro. Ad ogni modo, soprattutto per via delle indagini poco credibili, il 4 febbraio dell'85, il giudice Jean-Michel Lambert, contro il parere del pubblico ministero di Epinal, libera Bernard Laroche, che torna alla sua vita e al suo lavoro in fabbrica. A quel punto il paese si divide in due. C'è chi pensa che Bernard Laroche sia innocente, e chi pensa che invece sia lui, l'assassino di Gregorie. Il giudice quindi decide di non voler più seguire la pista che incrimina Bernard, e i gendarmi, che fino a quel momento erano affidati al caso, vengono esclusi per via dei troppi errori svolti durante le indagini. In quello stesso periodo entra in scena un giornalista chiamato Jean-Michel Bezzina, che all'epoca lavorava per otto diversi media, molto famosi tra cui France Soir, Le Parisienne, West France e Le Figaro. Jean-Michel ha avuto un ruolo decisivo nelle indagini sul piccolo Gregorie, perché insieme a sua moglie scriverà tutta una serie di articoli in cui invece accuserà la stessa madre di Gregorie, Christine, di essere l'assassina. Alla fine del febbraio dell'85 viene incaricato un nuovo commissario per il caso, Jacques Corazzi. Quando l'uomo prende in mano le indagini, la teoria che sia stata Christine Villemin a uccidere il figlio è già sulla bocca di tutti per via del giornalista. E il commissario è costretto a ripartire da zero con le indagini, mettendo Christine in cima alla lista dei sospettati. Jacques affronta quindi l'omicidio di Gregory con un'idea fissa in mente. È stata la madre a commettere l'infanticidio. Le prove contro di lei tuttavia non risultano essere molto decisive. Alcune sue colleghe di lavoro affermano di averla vista il giorno del delitto consegnare una lettera all'ufficio postale, ma quando vengono chiamate a testimoniare nessuna di loro è in grado di descrivere come fosse vestita quel giorno. Christine dal canto suo si difende dicendo invece di essersi recata all'ufficio postale il giorno precedente all'omicidio ed era andata per depositare un assegno, versione che verrà poi confermata. A marzo viene fatta di nuovo una perizia calligrafica. Test che fa emergere delle somiglianze tra la scrittura di Christine e quella del corvo, avvalorando così la teoria che per tutto quel tempo in realtà fosse stata lei a inviare le lettere. O meglio, anche lei. La stampa in qualche modo riesce ad accedere a questa informazione e i coniugi Villemen vengono a conoscenza di queste accuse ascoltando la radio. Assurdo. A seguito di queste dichiarazioni, Christine, allora incinta di tre mesi, si sente male e viene ricoverata in ospedale. Jean-Marie, addolorato dalle accuse verso sua moglie e non riuscendo a sopportare il fatto che Bernard fosse uscito di prigione, prende una tragica decisione. Il 29 marzo 1985, intorno alle 13.15, si reca a casa di suo cugino, che era da poco tornato a casa insieme a sua moglie Marie-Ange e suo figlio Sébastien. Jean-Marie si avvicina a Bernard e gli punta contro un fucile da caccia. Bernard fa appena in tempo a dire «Non ho ucciso io tuo figlio!» che Jean-Marie gli spara al petto, uccidendo così suo cugino e trascinando con lui la sua verità. Jean-Marie Villemen, il padre di questo tipo di voi, viene di tuare di un fucile suo cusino, Bernard Laroche, che è sempre inculpato per il muro, ma che sembrava essere inocente. A seguito dell'omicidio di Bernard, i gendarmi verranno nuovamente criticati per non aver posto un servizio di sorveglianza a seguito della sua uscita del carcere. È venuto fuori, infatti, che subito dopo il suo rilascio, Jean-Marie avrebbe confidato a un giornalista del Paris Match di voler uccidere suo cugino Bernard. La stessa moglie di Bernard, poi, Marie-Ange, avrebbe chiamato più volte la gendarmerie chiedendo che fosse messo un servizio di sorveglianza a casa sua, richieste che sono sempre state ignorate. Subito dopo l'uccidione, Jean-Marie si reca in ospedale per confessare tutto a sua moglie Christine, per poi crollare a terra, si inghiuzzando. Poco dopo, viene allertata la polizia, che procede subito al suo arresto. Jean-Marie verrà mandato nel carcere di Saverne, ovvero il carcere più vicino a Le Ponge, per essere vicino a Christine. Tuttavia, nel luglio di quell'anno, sempre dell'85, quindi è passato pochissimo dall'omicidio, ragazzi, ed è già successo tutto sto casino, il giudice Lambert accusa nuovamente Christine per l'omicidio di suo figlio e, contro il parere della procura, la mette in custodia cautelare. Gli elementi contro di lei sono una nuova perizia scritta che la disegnava come il corvo, nonché delle corde trovate nella cantina della casa di famiglia, identiche a quelle usate per legare Gregory. Il 5 luglio 1985, lo stesso giorno in cui viene messa in custodia cautelare, Christine, ormai incinta di sei mesi, inizia uno sciopero della fame con il marito per protestare contro la sua accusa e l'incarcerazione. Undici giorni dopo, quindi il 16 luglio, la camera d'accusa di Nancy fa notare l'insufficienza di prove per la custodia cautelare della donna e annuncia così la sua liberazione. Viene però confermata l'ordinanza di rinvio a giudizio. Quindi diciamo che, sì, lei esce, ma rimane un po' tutto in sospeso in attesa che vengano raccolte ulteriori prove che confermino o smentiscano la sua innocenza. Il suo caso, ad ogni modo, divide radicalmente non solo i cittadini ma anche gli addetti ai lavori, alcuni convinti della sua innocenza, altri della sua colpevolezza. L'intera indagine fin dall'inizio è stata accompagnata da una lunga serie di incidenti. Le violazioni della riservatezza delle indagini da parte degli avvocati di Jean-Michel Lambert e Bernard Laroche, le violazioni della privacy dei villemans, la mancanza di precauzioni da parte degli investigatori nella raccolta degli indizi che si facevano sfuggire un po' di cose qua e là, l'indecisione dei magistrati, la rivalità tra la gendarmeria e la polizia giudiziaria, l'incompetenza e negligenza del giudice e infine l'autopsia che, non vi ho detto, era stata interrotta su richiesta del capitano Etienne Sesmat per la preoccupazione di rendere il corpo del bambino il più presentabile possibile ai suoi genitori. È stato tutto gestito in maniera sbagliata. Il 30 settembre del 1985 Christine Villemane dà alla luce suo figlio che chiama Julienne. Alla fine dello stesso anno i coniugi Villemane scrivono al presidente della Repubblica François Mitterrand per far escludere il giudice Jean-Michel Lambert dalle indagini a causa di troppi errori commessi fino a quel momento. Il suo lavoro nel caso Gregory si conclude definitivamente il 23 aprile del 1986. Si deve ricominciare tutto da capo. Il 17 marzo 1987 la corte d'appello di Dijon riprende l'indagine e l'affida al presidente della camera d'accusa Maurice Simon che riparte da zero e decide di riprendere tutti gli elementi fin dall'inizio. I coniugi Villemane per la prima volta si sentono ascoltati e supportati. Jean-Marie in detenzione provvisoria da ormai due anni viene rilasciato e posto sotto controllo giudiziario. Il 24 dicembre 1987 viene messo agli arresti domiciliari. Questa volta è l'avvocato di Aila Roche ad accusare il giudice di imparzialità criticando pesantemente la giustizia francese. La famiglia di Bernard fa un annuncio pubblico in televisione minacciando Jean-Marie e dicendo pubblicamente di non tornare nelle Vosges. Oppure avrebbe fatto una brutta fine. Ragazzi non so a questo caso c'è una diatriba familiare allucinante. A differenza del giudice Lambert il giudice Simon opera nel silenzio più totale senza concedere nessuna intervista per rispettare la segretezza delle indagini finalmente. I risultati sono soddisfacenti ma sfortunatamente anche il giudice Simon farà un errore. Un giorno concede una piccola intervista a un giornalista locale che senza il consenso del giudice pubblica sul giornale l'intera loro conversazione. Questo errore ovviamente lo metterà in cattiva luce e sarà ragione di ripetute critiche nel corso del tempo. Nel gennaio 1990 anche il giudice Simon sarà costretto ad abbandonare il caso ma lui a seguito di un infarto che lo fa cadere in coma. Una volta risvegliato si scopre che era stato colpito anche da un'amnesia condizione che ovviamente vanifica tutti i suoi progressi sul caso. Il 3 febbraio del 93 quindi tre anni dopo Christine Villemaine viene finalmente scagionata da tutte le accuse di omicidio. Nel novembre dello stesso anno Jean-Marie viene processato a Dijon per l'omicidio di Bernard e dopo sei settimane di udienza viene condannato a cinque anni di carcere uno dei quali viene sospeso. Questa pena appare particolarmente leggera rispetto alla pena massima prevista per un crimine del genere ovvero l'ergastolo ma alla fine Jean-Marie viene rilasciato solo due settimane dopo non ho trovato molti dettagli su questo. Comunque secondo i suoi difensori il verdetto appare soprattutto come un verdetto di clemenza un verdetto che evidenzia le disfunzioni dell'indagine condotta dal giudice Jean-Michel Lambert Secondo invece i difensori della parte civile quindi la difesa della famiglia Laroche il processo di Jean-Marie Villemin ha solo messo l'accento sulla colpevolezza di Laroche in modo da limitare il più possibile la condanna di Jean-Marie in sostanza hanno rimarcato il fatto che Laroche ha ucciso il figlio di Jean-Marie e quindi il comportamento di quest'ultimo l'omicidio è in parte in qualche modo meno grave giustificato ovviamente non giustificato però comprensibile in questo caso ecco il movente di Jean-Marie è stato un attenuante tutto ciò però confermerebbe la colpevolezza di Bernard Laroche in teoria gli anni così passano Christine e Jean-Marie danno alla luce altri due figli e ricominciano a vivere una vita normale Christine lavora part time mentre Jean-Marie comincia a far carriera nel settore immobiliare la coppia si rifugia nel silenzio più totale non concedendo più nessuna intervista e parlando solo ed esclusivamente con il loro avvocato il caso Gregory comincia a raffreddarsi intanto però le analisi forensi per il DNA fanno passi da giganti e così il 25 novembre 1999 i coniugi Wildman chiedono tramite il loro avvocato Thierry Mosè la riapertura delle indagini per poter effettuare le analisi del DNA il 19 aprile del 2000 il pubblico ministero di Dijon Hélène Magliano riapre finalmente il caso Gregory la speranza di conoscere la verità è ravvivata dall'analisi del DNA presente su un mezzo francobollo che potrebbe aver conservato la saliva del corvo sulla lettera spedita il 27 aprile del 83 indirizzata ai nonni di Gregory nella loro abitazione di Bruyere nell'estate del 2000 gli esperti del laboratorio di biologia molecolare e dell'ospedale universitario di Nantes esaminano il mezzo francobollo ma purtroppo queste analisi non danno i risultati sperati perché la miscela di DNA si rivela inutilizzabile la relazione scientifica spiega che le tracce di DNA non erano interpretabili a causa delle varie manipolazioni della busta a partire dal 1983 e delle condizioni di conservazione dei sigilli una nuova perizia però viene effettuata nel 2009 dal laboratorio lionese Bionnis che rivela la presenza di due DNA diversi sulla posta inviata dal corvo più di preciso sulla posta inviata al nonno di Gregory nel luglio 1985 nove mesi dopo il ritrovamento del corpo i DNA sono quelli di un uomo e di una donna e non corrispondono a quelli dei genitori di Gregory il caso dunque viene nuovamente riaperto e i protagonisti nuovamente ascoltati purtroppo però anche queste analisi del DNA effettuate sulla lettera non danno assolutamente nessun risultato le tracce individuate infatti non corrispondono a nessuna delle 140 persone potenzialmente coinvolte davvero assurdo per via di tutto questo passa altro tempo nel 2010 la polizia scientifica decide di analizzare più attentamente le telefonate fatta la famiglia il 20 ottobre il procuratore generale della corte d'appello di Dijon chiede di riaprire le indagini per l'analisi dei capelli ritrovati sui pantaloni del piccolo Gregory l'analisi delle corde usate per legare il piccolo e il confronto delle registrazioni delle voci del corvo con le voci delle varie persone potenzialmente coinvolte purtroppo però ragazzi nemmeno questi tentativi portano a nulla il 16 gennaio 2012 il procuratore generale annuncia che non era possibile estrarre il DNA dal nodo delle corde e che i capelli rivelavano un genoma mitocondriale che non poteva essere collegato a nessuno viene lasciata qualche speranza per il confronto delle registrazioni delle voci del corvo ma sebbene l'analisi delle registrazioni audio riveli le voci di un uomo e di una donna non consente di identificare delle persone specifiche le speranze di trovare il colpevole o i colpevoli iniziano di nuovo ad annullarsi e il caso inesorabilmente va di nuovo incontro ad una situazione di stallo l'indagine ha un'ennesima svolta nel giugno del 2017 quando la prozia e il prozio di Gregory ovvero Marcel Jacob e Jacqueline Jacob vengono messi in custodia cautelare loro sono praticamente il fratello della nonna paterna di Gregory e sua moglie ecco il procuratore generale spiega che le telefonate e le lettere del corvo provenissero da una coppia e le perizie calligrafiche su alcune lettere dimostrano che avrebbero potuto essere scritte da Jacqueline inoltre il termine le chef spesso scritto nelle lettere sarebbe stato detto da Marcel Jacob nel 1982 durante un'accesa discussione con Jean Marie Marcel quel giorno avrebbe detto queste parole non stringo la mano a uno chef inteso come capo sei solo un insetto senza peli sul petto come a dire che Jean Marie era giovane e non meritava il successo lavorativo che stava avendo data appunto la sua giovane età e la sua inesperienza nel settore viene quindi formulata una nuova teoria secondo cui Marcel e Jacqueline sarebbero i veri assassini di Gregory secondo questa teoria il giorno del delitto Bernard Laroche sarebbe effettivamente andato insieme a Muriel e suo figlio Sebastien a rapire il piccolo solo per poi consegnarlo alla coppia che si sarebbe invece occupata dell'omicidio tuttavia nel dicembre di quell'anno entrambi i coniugi vengono scagionati per insufficienza di prove nello stesso anno torna in scena anche Muriel Ball la persona che sicuramente ha creato più scompiglio nelle indagini in un registro viene ritrovata una frase detta dalla stessa Muriel nel 2008 ovvero questa qua è stato Bernard a uccidere Gregory e io ero con lui a seguito del ritrovamento di questo registro vengono chiamati a testimoniare i familiari di Muriel tra cui un cugino di nome Patrick Fevre che conferma questa versione e dichiara anche che Muriel qualche anno prima gli aveva confessato di essere andata insieme a Bernard quel giorno per rapire Gregory e poi consegnarlo a una coppia Muriel quindi viene arrestata il 28 giugno e messa in custodia cautelare per complicità dell'omicidio di Gregory e per rapimento di minore tenuta in detenzione e in isolamento per la sua protezione Muriel inizia uno sciopero della fame il 6 luglio per dichiarare la sua innocenza e protestare contro la sua detenzione il 4 agosto infatti viene rilasciata sotto controllo giudiziario i sospetti allora ricadono su Michel Villemin fratello di Jean-Marie e su sua moglie Ginette la coppia era stata a lungo sospettata perché non nutriva particolare simpatia per Jean-Marie e sua moglie Christine e Michel ha più volte ribadito di non essere legato alla sua famiglia ma i colpi di scena non finiscono qui perché nello stesso anno dell'arresto di Muriel Marcel Jacob e Jacqueline Jacob un altro dramma mescola nuovamente tutte le carte in tavola l'11 luglio del 2017 Jean-Michel Lambert il giudice che aveva seguito le indagini all'inizio viene trovato senza vita nel suo appartamento con un sacchetto di plastica alla testa insieme a lui viene poi ritrovata una lettera di tre pagine indirizzata ad un suo caro amico giornalista in cui il giudice scrive le sue ultime parole vi riporto alcuni pezzi ho deciso di uccidermi perché non ho più le forze di affrontare queste ultime sfide questo ennesimo colpo di scena è pessimo qui ragazzi si riferiva alle accuse contro Muriel comunque gli eventi a partire dallo scorso giugno sono destinati al fallimento e per una buona ragione per evitare di perdere la faccia cercheremo un capo espiatorio mi rifiuto di interpretare questo ruolo anche se qualche volta ho fallito ho comunque la coscienza perfettamente pulita riguardo alle decisioni che ho dovuto prendere non conosceremo mai la verità perché ci rifiutiamo di vedere la verità preferisco segnare per me la fine della partita sto invecchiando e non ho più la forza di combattere ho compiuto il mio destino ricorda mio caro Christophe riferendosi al giornalista ti esprimo i miei sentimenti più calorosi firmato Michel Lambert ad oggi sono passati esattamente 40 anni dall'omicidio del piccolo Gregory e il caso rimane ufficialmente risolto le indagini rimangono le più lunghe e complesse della storia criminale francese e molti lo considerano tuttora un fiasco del sistema giudiziario Jean-Marie e Christine ancora oggi sperano che la verità un giorno venga a galla e al momento hanno deciso di rimanere in silenzio per tutelare i loro tre figli avuti negli anni successivi ecco questa volta sono davvero curioso di sapere le vostre considerazioni quindi non esitate a scrivermele qua sotto secondo voi chi ha ucciso Gregory Villeman come promesso siamo alla fine e vi dico anche la mia però non fatevi condizionare mettete in pausa il video scrivete la vostra prima nei commenti poi riprendete con la visione così abbiamo insomma un confronto più chiaro allora secondo me e ribadisco secondo me ricordate il corvo erano un insieme di persone non soltanto due innanzitutto in tutte le sue versioni il corvo ha dimostrato di non essere proprio una cima a livello di istruzione errori di ortografia errori nel cognome dei Villeman e addirittura un lessico discutibile nelle telefonate tutto questo fa pensare ad una persona o a più persone con un basso livello di istruzione il che però non ristringe affatto il campo perché tutte le persone dell'albero genealogico dei Villeman avevano appunto un basso livello di istruzione secondo me però sapevano tutti molto bene come scrivere il cognome e l'hanno sbagliato apposta per far pensare che si trattasse di qualcuno non così vicino alla famiglia magari un conoscente un collega ecco invece sempre a mio parere era qualcuno della famiglia trovo molto probabile che in effetti a scrivere le lettere fossero i prozii marcel jacob e jacqueline anche perché durante un'intervista quando il presentatore legge loro una delle lettere e fa notare l'errore di spelling questa è la reazione dei coniugi quando viene loro fatto notare l'errore lui fa un gesto istintivo come ad indicare la moglie come a dire che era stata lei a fare l'errore ma poi lei procede a dire che non ha mai scritto niente quindi nemmeno quell'errore e subito dopo a lui viene quasi da ridere sicuramente non sono comportamenti normali direi per persone che non nascondono nulla fanno intendere che comunque sanno qualcosa ma ovviamente un semplice comportamento non vuol dire niente eppure se loro fossero davvero il corvo si spiegherebbero la voce femminile delle prime telefonate e la voce poi maschile e rauca di quelle successive inoltre guardate l'identikit e guardate poi com'era marcel in quegli anni ecco una somiglianza c'è ma c'è una somiglianza anche con il primo incarcerato per l'omicidio ovvero bernard la roche quindi potrebbe non voler dire nulla tuttavia l'idea che mi sono fatto è che sia marcel jacob e sua moglie a cui non andava genio jean marie sia bernard potrebbero essere il corvo nonché gli assassini e intendo proprio entrambi cioè entrambi avevano un movente l'odio per il successo di jean marie il suo figlio perfetto la sua casa perfetta la sua vita perfetta secondo me quindi non è così improbabile che in qualche modo si siano messi d'accordo e abbiano giocato da molte virgolette tutti insieme con la famiglia villemaine per tutto quel tempo poi il fatto che Muriel quel giorno non sia tornata a casa con lo scuolabus è appurato ed è molto probabile che in effetti le sue dichiarazioni siano veritiere secondo me in sostanza bernard è andato a prendere Muriel a scuola insieme a suo figlio sono andati poi a rapire gregory e l'hanno portato a marcel e sua moglie che l'hanno poi ucciso e buttato nel fiume oppure marcel e sua moglie avevano solo un ruolo nelle lettere e nelle telefonate ma invece non nell'omicidio compiuto invece da bernard infatti magari le prime lettere quelle scritte in stampatello erano state scritte da bernard mentre poi quelle dopo in corsivo tremolanti da marcel e sua moglie questo ovviamente però sono solo le mie considerazioni le mie supposizioni eccetera ora vado a leggere subito le vostre ricordo comunque che questo è un caso irrisolto potrebbe essere davvero come ognuno di noi ha immaginato o potrebbe invece essere tutt'altro quindi come al solito tutti innocenti fino a prova contraria l'unico che in tutta questa storia ha sicuramente e inconfutabilmente commesso un omicidio per assurdo è Jean-Marie il padre di Gregory che ha ucciso Bernard detto questo amici io spero che in qualche modo vi sia piaciuto passare del tempo con me anche oggi se è stato così ricordate di lasciare un mi piace al video o magari un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di e ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che ho deciso di ritardare rimandare il video su quei famosi fratelli di cui vi ho accennato il video scorso il motivo è che semplicemente se ne sta parlando fin troppo e potrebbero esserci degli aggiornamenti molto importanti con la riapertura del caso ed un nuovo processo quindi direi che è meglio aspettare in ogni caso i prossimi video saranno piuttosto pesanti vi avviso spero di avervi incuriosito e spero quindi che rimarrete nei baraggi iscrivendovi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora per essere stati con me anche oggi e vedo appuntamento al prossimo venerdì anzi al prossimo martedì con un altro file ciao